no ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul canale se siete nuovi mi sono accesa la mia candelina ma credo che voi non la vedete aspettate che vi sposto ok così facciamo un po di ambiente un po di atmosfera come avete letto dal titolo oggi parliamo di prodotti appartenenti a brand luxury costosi diciamo così che ho acquistato nell'ultimo periodo vi faccio un po una carrellata vi faccio vedere quello che ho acquistato vi faccio vedere un pacchettino PR quindi una cosina invece che mi è stata gentilmente inviata e nulla così ci teniamo un po di compagnia vuole essere un video chiacchiericcio lo sapete ve l'ho già detto in tanti video che per me è un periodo intenso perché al lavoro si sommano altre problematiche come la casa stiamo retinteggiando tutta casa quindi vi lascio immaginare perciò sono già felice di non lasciare scoperto il canale questa settimana e di far uscire un videino anche se molto leggero e di chiacchiera come sempre vi chiedo di farmi vedere ciò che volete vedere recensito per primo quello che vi incuriosisce di più quindi io direi non perderci in chiacchiera e di partire visto che ho accumulato un po di cosina nelle settimane ho pensato di filmarvi in questo primo video dedicato ai prodotti diciamo luxury e poi un secondo video con i prodotti medium cost un po più così una miscellanea di prodotti partiamo dal sacchettino che avete visto nell'immagine di copertina penso che è questo sacchettino di Jo Malone è un sacchettino che mi è stato regalato sabato perché siamo stati ad un bellissimo matrimonio un matrimonio di una coppia di amici e come bomboniera anziché diciamo il solito oggettino hanno pensato di fare una bomboniera profumata e di prendere agli ospiti appunto una piccola cosina, un pensierino del brand Jo Malone che è un brand inglese che in genere produce, è famoso per produrre fragranze di nicchia ma non solo fragranze, anche candele e altri oggetti diciamo per la cura del corpo ad esempio saponette e quant'altro in questo caso gli sposi hanno scelto una candelina io l'ho trovata una cosa carina la candela è comunque qualcosa che fa atmosfera che ci aiuta a prenderci del tempo per noi per le persone che amiamo quando accendiamo la candela in genere è quando ci stiamo rilassando che sia durante un bagno caldo o la visione di un film la lettura di un libro o una cena magari quindi sono quei momenti che dedichiamo a noi ma anche ai nostri ospiti o alle persone con cui condividiamo questi momenti un po' magici quindi io la trovo anche simbolica la luce, la luminosità non lo so la trovo un'idea davvero davvero bella vi faccio vedere il contenuto della scatolina scatolina che naturalmente terrò neanche a dirlo il contenuto senza che io faccia disastri è questo qua ecco qua abbiamo una candelina il profumo arriva fin qua è piccina ma è molto bella dietro io non so se lo potete vedere aspettate allora questa è la candelina davanti e questa è la candelina dietro con le iniziali dei due sposi quindi la F e la A F di Fabio e A di Andressa e la profumazione non ve l'ho detto è Lime Basil & Mandarin che è una delle più famose fragranze diciamo del brand non so se hanno scelto la stessa profumazione per tutti o se a caso non aveva una fragranza diversa la vedrete sicuramente qua come sfondo dei miei video quindi per me è un regalo apprezzatissimo e poi ci sono anche i fiammiferi molto molto eleganti neri ecco qua molto molto eleganti stupendi allora io la trovo una bella idea perché permettetemi di dirlo o non si fanno le bomboniere o a volte ci sono quegli oggettini in ceramica che dove te li metti cioè mia nonna dice campapue prendi polvere in dialetto diciamo così effettivamente o sono oggetti utili ad esempio mi è capitato un matrimonio era un cavatappi molto molto bello ed elegante che l'avevano ricevuto i miei ce l'hanno ancora in uso quindi in quel caso una cosa utile siamo andati ad un matrimonio tutto a tema un girasole miele e la bomboniera era un bel vasetto di miele di miele nostrano con sapete in legno non so se è un nome specifico ma è proprio quell'attrezzo che serve per prelevare il miele e metterlo diciamo così sulla crepe o su quello che vogliamo e l'ho trovata un'idea altrettanto bella e questa mi piace perché al di là che io la uso nei miei video secondo me è molto carina per chiunque ecco non è una cosa troppo femminile non è una cosa troppo maschile io l'ho attreprezzata davvero davvero tanto poi magari fatemi sapere se voi vi siete sposati sposate che bomboniera avete scelta l'avete fatta oppure no non so fatemi sapere che sono curiosa vi piacerebbe ricevere una candelina come come bomboniera parliamone secondo me è un argomento molto interessante altra cosa per quanto riguarda il make up di oggi praticamente ho un no make up sono andata a lavoro oggi e non ho avuto tempo questa mattina di prepararmi se non un minimo ho fatto un po' la base ho pettinato le sopracciglia ho messo un po' di mascara sulle labbra l'ho riapplicato perché ho pranzato ho fatto merenda insomma ed è questo di Fenty Beauty nella colorazione 02 il gloss bomb sticks nella colorazione 02 lo sto usando tanto e a me piace molto perché è bello morbido idratante è come avere sulle labbra un bel lip balm però dà questa luminosità che io non trovo eccessiva che mi piace fa apparire le labbra belle polpose nutrite curate non mi pronuncio sulle colorazioni più scure ma questa così chiara secondo me è molto bella ok passiamo a un pacchettino che un pacchettone in realtà che mi ha inviato gentilmente un'azienda che io conosco già e ho già avuto modo di provare alcuni dei loro prodotti chi mi segue da tempo sul canale lo saprà si ricorderà dei miei video dei miei video recensioni dei miei video sui finiti e sto parlando del brand Dute eccolo qua spero di averlo pronunciato correttamente è un brand sono prodotti di skin care realizzati in Grecia è un'azienda piccolina che è nata da poco ma che devo dire la verità ha già largo seguito è già molto conosciuta molto apprezzata e ne sono felice mi piace quando posso nel mio piccolo perché è il mio piccolo canale però supportare queste aziende volenterose che ci mettono impegno ci mettono passione nel produrre le loro chicche i loro prodotti in questo caso parliamo ormai perché quando io li ho conosciuti non avevano ancora tutti i prodotti che hanno ora in gamma ma ormai forniscono ci offrono dei prodotti tutto il necessario per una skin care routine completa devo dire che questo ve lo dico col cuore è un brand che ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché nonostante si veda che dietro c'è proprio una grande ricerca alla qualità del prodotto agli ingredienti giusti alla formula performante sono prodotti che non hanno un costo eccessivo tra l'altro sono stati così carini da darci un codice sconto che sarà attivo sul loro sito se volete farvi o fare un regalo ci sono davvero diverse referenze un po' per tutti i gusti e possiamo avere questo sconto molto alto del 35% che vi scrivo qua ma vi lascio come sempre anche giù in infobox con il link diretto al sito così se vi va di dare un'occhiata potete farlo in tranquillità tra l'altro hanno anche una bellissima pagina Instagram e vogliono raccogliere quegli ingredienti tipici delle zone blu del mondo le zone blu del mondo ne abbiamo anche in Italia ad esempio la Sardegna dove l'aspettativa di vita è più alta dove le persone sono più longeve più in salute e quindi rubano un po' gli ingredienti prodotti che si trovano su quei territori e li mettono in boccetta li portano all'interno delle loro delle loro referenze allora vi faccio vedere brevemente allora io ho ricevuto questo pacchettino bellissimo accompagnato da un bigliettino che fa sempre piacere tra l'altro scritto a mano buona skin care cara Martina Team Dute sono molto molto carini allora partiamo partiamo subito da un prodotto che conosco già ve li faccio vedere un po' velocemente come vi dicevo se poi vi va di approfondire trovate tutti i dettagli giù nell'info box questo è un detergente viso che potete utilizzare al bisogno al mattino alla sera sia da solo sia nella doppia detersione è infatti un cleanser un detergente in gel all'interno ha estratto di spinaci di tè verde e anche acido salicilico l'acido salicilico è un ingrediente che mi piace tantissimo perché è un ingrediente che va a fare un'esfoliazione chimica ma delicata leggera davvero adatta a tutti i tipi di pelle e mi piace il fatto giorno dopo giorno dopo giorno di detergere il mio viso e andare a rimuovere le cellule morte che si vanno a accumulare lasciando uno strato grigiastro che fa apparire il nostro incarnato più spento stanco meno luminoso meno radioso anche perché finché siamo giovanissime il turnover cellulare è veloce davvero è velocissimo ma poi andando avanti con l'età questo diventa sempre più lento quindi è bene aiutarlo questo rinnovamento cellulare grazie a dell'esfoliazione con un'esfoliazione in questo caso chimica è molto delicata allora questo è il detergente in gel come vedete molto bello ma io vi faccio vedere che ce l'ho già in un packaging diverso quello che ho io è un pack vecchio vi avevo già parlato di questo detergente di quanto mi piacesse anche perché non sempre abbiamo tempo di fare un peeling un'esfoliazione ma avendo l'acido salicilico nel detergente non ci ruba tempo e per chi come me è sempre di fretta sempre in ritardo ha sempre i minuti contati avere dei prodotti che uniscano che combinino più azioni è fantastico io sono arrivata del mio qua quindi lo provo davvero da tantissimo tempo sono addirittura d'arrivo questo è il mio detergente mattutino uso tutte le mattine prima prima di uscire mi piace tantissimo tra l'altro ha un profumino delizioso che spero abbia anche questo molto delicato non pensate a un profumo invadente ma molto piacevole molto delicato credo che questa grafica sia ancora più bella ed effetto rispetto alla vecchia quindi insomma complimenti perché cercano in continuo di migliorarsi e questo è davvero apprezzabile niente quindi direi questo poi 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 abbiamo sempre legato alla detersione che io non ho ancora mai provato ma sono curiosissima il Dissolve Face Cleansing Butter quindi è un burro struccante sapete che io ormai mi strucco solo con i burri o con gli oli quindi ad esempio adesso a fine giornata vado a tirare indietro i capelli sul viso asciutto prelevo una piccola quantità in questo caso di burro struccante qua c'è una spatolina in metallo per non andare a usare le mani le unghie ottima e super necessaria sul viso massaggiato diventa appunto un olio che va a sciogliere bene il mascara magari la matita sopracciglia il fondotinta il correttore e poi a contatto con l'acqua si emulsiona e viene via questo è nuovo come vi dicevo non l'ho mai provato perché non c'era ancora in gamma quando ho provato io i loro prodotti ma ne ho sentito parlare delicatissimo ne ho sentito parlare molto bene ad esempio dalla mia amica Michela Di Maio ti mando un bacione se guarderai questo video e quindi non vedo l'ora di andarlo a provare adesso ne ho un altro di balsamo struccante in bagno che è più o meno a metà vorrei finirlo perché a metà mi spiace lasciarlo aperto e poi andrò senz'altro a provare lui non vedo l'ora sono curiosissima e quindi vi aggiornerò quanto prima sempre legato alla detersione abbiamo anche i Day of Wipes che sono dei pad dei dischetti riutilizzabili di quelli che insomma possiamo usare nella quotidianità e anche dal punto di vista ecologico è davvero ragazzi la scelta migliore e poi quando sono sporchi li possiamo lavare a mano in lavatrice come preferite tenete anche la sacchettina perché può essere comoda in lavatrice per metterceli magari tutti e tre e guardate che belli che sono veramente bellissimi morbidi 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 estremamente morbidi io li uso tanto questi perché appunto sciolgo il make up massaggio bene mi prendo il mio tempo col balsamo struccante poi emulsiono con l'acqua e poi mi aiuto con un dischetto magari per andare qua all'attaccatura dei capelli o sugli occhi dove magari abbiamo tanti prodotti la matita l'eyeliner il mascara insomma faccio una passata di panno e voilà e sono sicura di aver rimosso qualsiasi traccia di make up sono davvero super 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 utili un regalo apprezzatissimo poi un prodotto che io ho già avuto finito ahimè e se mi seguite lo sapete amato tantissimo infatti quando mi hanno contattato e mi hanno detto ti piacerebbe se ti mandassimo i nostri prodotti sì sì mi piacerebbe tantissimo questo è il reclaim andatevi a recuperare i miei video recensione sui finiti perché questo lo ha amato tanto è un siroviso con macadamia caffeina ginseng e è un siro dalla consistenza particolorissima non ho mai provato nulla del genere eccolo qua lo vedete già dalla boccetta che è un siro molto più corposo molto più denso rispetto a quelli molto liquidi acquosi a cui in genere siamo abituati e e va già a dare un boost di nutrimento di idratazione alla pelle ma senza ungerla non è grasso si assorbe bene si assorbe velocemente in fretta ne basta qualche goccina ma senti proprio la pelle che ti dice grazie dopo la detersione mi piace da morire lo apro tanto questo conto di usarlo e volevo sentire il profumo se è lo stesso che c'era prima perché vi ripeto io gli ho provato un po' di tempo fa e me l'ho già finito ne metto una goccina sulla mano anche qua la grafica è un po' diversa molto bella minimal elegante si si assoro bene un attimo si assoro bene un secondo non fa scia bianca si c'è sempre forse un po' più tenue rispetto a quello che ricordavo io tutte profumazioni delicatissime quindi anche alle persone che sono infastidite un po' dagli odori possono stare tranquille bello bellissimo questo va applicato lo sapete dopo il tonico dopo la detersione hanno aggiunto un nuovo siero però alla gamma che è il secret face serum con acido ialuronico alga verde e rose hip sapete che non lo so devo andare a vedere non lo so questo è un siero idratante adatto un po' a tutta la tipologia di pelli ma devo dire la verità sia il detergente il balsamo struccante questo siero un po' più ricco nutriente questo è un po' più idratante vedete trasparente è più più liquidino con acido ialuronico appunto sono prodotti davvero trasversali che difficilmente secondo me possono non piacere o non essere apprezzati io vi consiglio davvero di dare una chance a questo brand di supportarlo con il nostro codice sconto il prezzo è davvero 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 eccezionale e io ve le inizio a lanciare là questi consigli durante i miei video ci avviciniamo alle feste e poi ci ritroviamo magari i primi di dicembre tra un mese con 20 regali da fare quindi secondo me portiamoci un pochino avanti sfruttando queste scontistiche importanti che ci sono adesso io credo che un bel kit prova potrebbe essere un regalo apprezzatissimo per un'amica mamma zia sorella nonna insomma cugina chi più ne ha più ne metta anche perché no anche per i maschietti perché questi sieri sono fantastici il detergente con acido salicilico secondo me anche per un ragazzo che ha delle impurità può essere eccezionale poi abbiamo face cream restore è una crema viso anche qua che io ho già avuto modo di provare l'ho recensita ma non l'avete vista nei finiti perché me l'ha fregata mia mamma l'ho voluta far provare anche a lei sono contenta di averne un'altra per me ecco tutta per me tutta mia e vabbè questa è ancora chiusa non l'apro adesso perché ne ho un'altra anche qua che sto terminando poi la utilizzerò all'interno abbiamo alga rossa questa volta e sempre anche qua acido ialuronico è una crema per qualche ricordo anche qua che non fa sia bianca che si massaggia facilmente sul viso non rimane unta fastidiosa pesante però idrata scusatemi se era interrotta la registrazione vi dicevo idrata e nutre a fondo la pelle veramente veramente bella e anche mamma ha apprezzato l'ultimo prodottino poi la scatola è vuota e quindi ce la posiamo è l'awake eye cream anche questo apprezzatissimo dalla nostra amici Michela Di Maio è un contorno incredibile anche solo per la size perché guardate qua sembra una crema viso infatti all'interno ci sono ben 50 ml di prodotto trovate una crema con 50 ml di prodotto anche i brand coreani che sono generosi spesso arrivano a 30 20 ma 50 sono davvero tantissimi per un contorno occhi potete fare un bel l'impacco nel perioculare prima di andare a dormire in modo da svegliarvi con uno sguardo davvero riposato idratato nutrito e quindi togliere tutta la secchezza del contorno occhi che poi ci porta a rendere più visibili i segni di espressione le prime rughe diciamo così del perioculare quindi veramente molto molto generosi per questo che vi dicevo hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale non è un video sponsorizzato non è una dv ci tengo a precisarlo non è un video a pagamento non ci guadagno nulla se usate il mio codice sconto se cliccate sul mio link ve lo metto solo per comodità se vi ho un po' incuriositi e se volete dare una chance ripeto a questa giovane azienda ma non guadagno nulla né dei vostri acquisti né per averne parlato nel video sono solo stati molto 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 carini e generosi nel darmi la possibilità di ricevere e provare tutte le loro referenze ecco qua bene posata la loro scatolina andiamo ai miei acquisti quindi i miei acquisti sono diversi diversi allora ho preso vi faccio vedere con calma e sangue e freddo che abbiamo di Dior un bel po' di prodotti ve li avevo già fatti vedere in alcune storie su instagram mi eravate sembrate mi siete sembrate meglio molto curiose su questi prodottini qua purtroppo qualcuno mi ha chiesto anche su instagram di dare una recensione cosa ne pensassi ma non ho potuto rispondere perché la realtà è che io non li ho ancora provati come vi dicevo un periodo molto impegnativo pian pianino sto testando ho provato il fondotinta di Uda che vi ho recensito mi sto facendo un'idea di quello in polvere di Make Up For Ever che piace a tutti ma io sarò una voce fuori dal cuore non riesco ancora a apprezzarlo al 100% sto provando per la base viso la palette di Make Up For Ever in crema e insomma visone uno il tempo è poco se vi devo dare una recensione ho bisogno di provarlo lì a lungo i prodotti non posso provare una volta e dirvi cosa ne penso sì è una first impression però poi finisce lì e allora adesso toccherà a questi prodotti allora abbiamo il fondotinta in stick di Dior che è curato in ogni dettaglio è un prodotto bellissimo e incontra proprio il mio gusto è la mia concezione di eleganza di chic di accuratezza di ogni singolo dettaglio io lo ho nella colorazione 1N che secondo me potrà andare benissimo benissimo per me sono davvero felice di essermeli portata a casa e di poterli provare non vedo l'ora tra l'altro come fondi in stick al momento solo quello di Fenty che mi piace molto per i make up in velocità quindi spero che questo mi piaccia altrettanto perché i fondi in stick io li trovo comodissimi sia durante i viaggi sia appunto così in velocità al mattino a casa l'altro prodotto che si differenzia perché è opaco non è lucido ma è altrettanto bella la confezione è lo stick per il contour che ho nella colorazione 01 light che è una colorazione molto fredda provarlo prima per me tra l'altro avrebbe avuto poco senso sia per la colorazione del fondotinta che adesso andrà benissimo ma secondo me qualche settimana fa non andava bene e anche per il contour perché è comunque un colore molto chiaro e super freddo e anche qua prima con un po' di abbronzatura non l'avrei secondo me valorizzato e apprezzato pieno quindi lo faremo adesso quindi fondotinta bronzer vorrei fare tutta una routine di or perché abbiamo anche un blush un illuminante di questi duo che sono usciti recentemente io ho preso il rouge blush color and glow nella colorazione 257 di or riviera tra tutti quelli usciti è quello che ho pensato di poter sfruttare di più che incontrasse di più il mio gusto mi piace molto anche il bronzer con l'illuminante ma io ho già un bronzer in polvere di di or che mi piace molto mi sembrava veramente eccessivo andarne a comprare un altro con un altro illuminante che sono prodotti che finisco veramente difficili con difficoltà e poi c'è un altro bellissimo con un blush borgogna bello 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 e secondo me potrebbe funzionare anche su una pelle chiara perché sono prodotti stratificabili però l'illuminante mi sembrava troppo giallo troppo caldo e troppo scuro per il mio incarnato questo invece è perfetto sono colori sia l'illuminante sia è chiaro sia secondo me sopra c'è una patina comunque sia l'illuminante sia il blush sono colori che per una carnagione chiara dovrebbero andare più che bene ho sentito dire che il blush è un po' poco pigmentato vedremo lo proveremo sicuramente prestissimo e vediamo un po' di farcene un'idea ma non finisce qui perché di di or questo è veramente un acquisto vecchio io ho una scatolina a casa dove metto gli acquisti che faccio li raccolgo per poi farvi dei get ready ma non c'è mai stato modo di farveli vedere però in realtà sono acquisti del passato mai provati però quindi li proviamo insieme e sono dei rossettini della linea di ora dict e sono i rouge brillant colore intenso shine lipstick quindi rossetti come piacciono a me rossetti che non seccano le labbra non le rendano tutte in carta pecorite delle prugne secche aride con le pelliccine in evidenza le linee in evidenza soprattutto per l'autunno inverno mi piacciono rossetti più emollienti idrettanti confortevoli non troppo pigmentati possibilmente che posso anche riapplicare durante la giornata questo è il colore 527 atelier molto molto amato so ve lo faccio vedere ve lo swatcho eccolo qua è un nude molto bello wow che bello questo con una mattitina neutra per tutti i giorni per andare a lavoro anche se siamo fuori a casa a lungo mangiamo va via mi sembra uno di quei prodotti proprio facili da applicare anche senza matita lì sotto l'altra colorazione era una limited ma secondo me si trova ancora ed è la 680 rose fortune credo che si trovi ancora ma penso di sì ve la faccio vedere è un po' più rosata forse sì l'altra è un po' più neutra questa è un po' più rosata quindi un po' per tutte le occasioni vestita come sono vestita oggi sarei andata della nude atelier però anche questo è bellissimo poi sapete che io spesso uso abiti sul viola sul rosa ma anche secondo me su una maglietta con una t-shirt bianca il nero il rosa è insomma un colore che uso molto e poi con i miei acquisti la profumeria è stata così carina da inviarmi un campioncino a parte qualche campioncino non ve lo faccio vedere di profumo ma anche questa mini taglia del fondotinta forever di dior nella colorazione 2n guardate che carino anche se si va fuori un weekend per non portarsi tutto il fondotinta è molto bello l'unica cosa è che la 2n temo sia scura per me perché io del forever ho la colorazione 1,5n è nel progetto smaltimento lo sto finendo sono qua sono sopra la scritta di or qua me ne manca poco poco vorrei portarlo a termine entro l'anno perché è uno dei più vecchietti che ho in collezione è quello che ho su anche oggi da stamattina all'alba però mi sembra che stia tenendo botta a me piace tantissimo perché ha una lunga tenuta una bella azione levigante tiene abbastanza va dal sebo senza disseccare troppo non è un fondotinta che consiglierà una pelle molto matura e secca magari più il forever glow o il nude questo classico secondo me più adatto una pelle mista un po' più grassa o per chi magari ha dei rossori ricerca coprenza perché ha una buona coprenza e io mi sento subito più bella più perfezionata quando l'indosso mi sento subito a mio agio mi piace tantissimo forse un fondotinta un po' più da sera ma io lo sto usando anche per tutti i giorni anche perché sto avendo delle giornate lunghissime e mi piace mi fa sentire tranquilla ecco comunque graditissimo perché 2N ecco non è una colorazione così distante dalla mia quindi magari quando prendo un po' più di colore può essere un prodottino molto molto utile poi rimanendo nei prodotti costosi ho preso un duo di Chanel perché l'ho visto dalla mia amica Titti Tiziana se guardi questo video ti mando tanti baci è un'appassionata incredibile di make up che ci fa scovare delle chicche e dopo di lei siamo capitolate in molte perché questa è una limited edition l'ho dovuta accaparrare subito perché avevo il terrore di non trovarla più astucetto in velluto come sempre Chanel ha una cura nel dettaglio incredibile specchio pennello che io tendenzialmente non uso però può essere utile in velocità e questo è il duo abbiamo un blush che tra l'altro è perfetto per i colori che vanno quest'anno quest'autunno inverno questo color vinaccia e poi abbiamo un illuminante rosato bello c'è un'opera d'arte ragazze questo prodotto poi è tutto inciso con la doppia c di Chanel bellissimo 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 prodotto non vedo l'ora di provarlo e rimanendo sempre in casa Chanel allora questo l'ho preso mi sembra su sabbioni mi sembra su sabbioni ragazze ho fatto un unico ordine con questo e i prodotti di Dior a parte i prodotti labbra che avevo preso tempo addietro mentre questi rossetti di Chanel li ho presi in un outlet dove avevo già preso tra l'altro altri di questi e ho preso le versioni rosate che se vi va poi vi faccio vedere essendo un outlet mi sono arrivati senza la scatola però vi recupero i nomi e ve li swatcho tutti anche con i due che ho già i duo che ho già magari ne proviamo uno dei tre sulle labbra nel prossimo get ready se vi può far piacere però vi swatcho bene sulla mano con una buona condizione di luce anche gli altri colori anche degli altri duo che ho sì e così se siete interessati all'acquisto potete farvi un'idea delle colorazioni sono dei rossetti liquidi da una parte avete il colore e dall'altra parte avete ve lo faccio vedere ok aiuto avete il pennellino con il gloss che serve per fissare il colore farlo durare davvero ragazze cioè potete tranquillamente andarci a pranzo a cena a ballare perché non ve li togliete più dalle labbra e poi sì vi lascio le labbra colorate ma anche con questo gloss perché il problema dei rossetti liquidi è che sì a volte ci sono formule a lunghissima tenuta che durano ore e ore anche mangiando bevendo chiacchierando ma il problema è che seccano terribilmente le labbra invece questi avendo anche la parte in gloss le tiene belle morbide idratate io li trovo eccezionali ho usato tanto i loro fratellini quando ho trovato disponibili queste colorazioni rosate subito e poi finiamo tanti di quei prodotti per le labbra ragazze che cioè dovrei averne dieci di labbra per sfruttarli tutti però sono quel prodotto che mi attira subito come una gazzaladra ho preso due altri due liperfector di claren perché sapete che ho acquistato questo qua che ho in uso adesso ce l'ho nella bag da tutti i giorni che è il colore 22 sono rimasta un po' delusa vi ricordate l'abbiamo provato assieme perché questo è trasparente però provandolo giorno dopo giorno mi sono resa conto che si va bene non è niente di che sarà un balm trasparente ma un balm molto nutriente molto idratante che davvero non è solo una questione estetica di andare a levigare le labbra ma davvero le idrata e le nutre io mi sono trovata benissimo e poi è un prodotto che in velocità uso uso tanto metto una matitina metto lui e mi sento in ordine e a posto e poi non va sui denti insomma è un prodotto facile e quindi avendoli trovati con un bello sconticino ho preso anche questi ho preso il colorazione la colorazione 07 toffee pink shimmer per vedere se è un po' diverso rispetto al 22 che ho già provato eccolo qua è un colorino nude tendente a rosa malva e il famosissimo 25 mulberry glow mulberry glow ce la posso fare sono stanca ragazze credo che si veda però è così vabbè ditemi se non è il colore del momento cioè il colore che va per la maggiore adesso anche qua non sarà un colore pieno sarà un colorino molto tenue ma va bene così perché me lo rende davvero facile quei prodotti che sono in plastica che lanciate in borsa e ve li riapplicate durante la giornata con facilità bene io direi che vi ho mostrato tutto in realtà poi vi dicevo ci sarà un altro video con prodotti un po' più accessibili dal medio costo o magari anche un po' più costosi ma che non rientrano nei brand luxury c'è un prodottino Duda Beauty mi viene in mente ci sono alcune palette occhi stupende che ho preso su Monolith ho fatto un piccolo ordine sul sito dell'estetista cinica che mi deve ancora arrivare neanche a dirlo con i nuovi rossetti e qualche altra cosa un nuovo mascara eccetera insomma ho un po' di cosina e non ho pensato di dividerlo anche perché se no questi video diventano un'agonia lente e dolorosa quindi ragazzi grazie mille se siete arrivati fino alla fine grazie per supportarmi sempre ringrazio ancora DUT per la fiducia e per la gentilezza e insomma sono stati davvero molto carini ad inviarmi i loro prodotti vi invito ancora a visitare o il loro profilo Instagram o il loro sito io vi mando un grosso bacio e come sempre se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video no ciao 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 Grazie a tutti.